La Viterbese piazza il colpo in attacco, tutto fatto per l'arrivo alla corte del giallo-blu di Alessandro Marotta. L'attaccante sbarca nella tuscia a caccia di riscatto, visto che nella scorsa stagione, pur vincendo il campionato con la maglia del Modena, non ha praticamente mai giocato per un lungo infortunio ora risolto. Nell'ultima stagione appunto ha collezionato otto presenze e due golo con la casacca dei Canarini. Doppio innesso in casa Foggia, ci sono ormai gli accordi con il giallo per il pesto del centrocampista Luca Chierico, classe 2001 figlio d'arte. Il papà, Odo Agri, vinse lo scudetto con la Roma di Ledom. Cresciuto proprio con i giallorossi, Chierico ha maturato un'esperienza con Olbia e Regina. Al Genoa dal gennaio del 2021 ora lo aspetta il Foggia. Dal Napoli arriva Filippo Acosta, classe 1995, reduce dalla parentesi a Parma. Un colpo importante che sintetizza bene le ambizioni del club rosso-nero. Rinforza centrocampo per il Crotone, il club pitagorico è ad un passo da Marco Carraro, centrocampista, classe 1998, di proprietà dell'Atalanta, ma nell'ultima stagione alla Cosenza. Il Potenza vuole regalarsi un colpo di spessore prima della chiusura del mercato. Il club lucano sarebbe interessato a Daniele Celiento, difensore, classe 1994, di proprietà del Bari. Grazie a tutti.